La sicurezza è un optional. Trafina alla parrocchia dei Santi Martiri, i due banditi minacciano il parroco e si fanno consegnare i soldi delle offerte. Riviste le tariffe del trasporto pubblico regionale, da settembre sconti e giavolazioni per studenti e lavoratori. Tredicesima edizione della festa del volontariato a Caffaggio, per due settimane cene solidarie a favore delle associazioni. Classica d'agosto per il ciclismo pratese, assegnati a Sant'Ippolito di Vermia i titoli provinciali esordienti. Buonasera e bentrovati alla nuova edizione del nostro Tg. L'avete sentito in primo piano l'inchiesta di TV Prato sulla sicurezza nel settore dell'edilizia. A un mese dall'infortunio in via Arcangeli siamo tornati a vedere com'è la situazione nei cantieri aperti in città. Quello che abbiamo visto sono manovre rischiose, parapetti, provvisori e abbigliamento non idoneo, che dicono che la sicurezza sembra essere davvero un optional. Ce ne parla Giulia Ghizzani. Parapetti provvisori, abbigliamento non idoneo e manovre rischiose. Dopo l'ultimo infortunio sul lavoro in un cantiere di via Arcangeli appena 15 giorni fa, torna in primo piano la questione sicurezza nel settore edilizia. Basta un giro tra i cantieri aperti in città per rendersi conto che c'è ancora molto da fare e che le criticità spesso sono sotto gli occhi di tutti. Qui ad esempio viene utilizzata una piattaforma elevabile per eseguire alcune operazioni in quota, ma il cestello durante le manovre risulta aperto e i due operai sprovvisti di casco si espongono al pericolo di caduta dall'alto nonostante siano imbracati. Altra situazione discutibile in questi scatti. Le impalcature del ponteggio non possono essere utilizzate come deposito materiali e attrezzature perché potrebbero essere sovraccaricate rendendo difficile anche il semplice passaggio. Di dubbia sicurezza poi i parapetti improvvisati con i bancali di legno e gli abiti utilizzati dai lavoratori che non preservano il corpo da urti, colpi e impatti. Condizioni simili si ritrovano anche in questo secondo cantiere, parapetti, posticci e abbigliamento non idoneo. Poi ci sono casi diversi. In questa immagine salta all'occhio l'uso individuale della piattaforma elevabile. Nello specifico è necessario essere almeno in due per consentire in caso di malfunzionamento il recupero della persona rimasta a bordo del cestello. Le anomalie si riscontrano però non solo sui cantieri ma anche in altri contesti di lavoro, come il taglio di erba e cespugli. Qui manca la visiera a protezione di tutto il viso e il casco per riparare il capo. Qui invece si è scelto una scala anziché attrezzature più sicure per evitare brutte cadute da una postazione rialzata. Ladri in parrocchia, i santi martiri, sabato notte due banditi sono entrati in canonica e hanno minacciato il parroco facendosi consegnare la cassetta delle offerte. Guardate. Lo hanno atteso nel buio e dopo averlo minacciato lo hanno costretto a farsi consegnare i soldi delle offerte. Notte da incubo per Don Gianni Gualtieri, parroco dei santi martiri, nella zona del Cilianuzzo. Sabato scorso, attorno alle 23.30, due uomini col volto travisato hanno scavalcato il cancello della canonica e quando hanno visto il sacerdote uscire sul terrazzo sono piombati su di lui costringendolo a farli entrare in casa. Non avevano armi anche se uno di loro continuava a dire all'altro di tirar fuori la pistola. Probabilmente si trattava di un blef ma il parroco non ha opposto resistenza, ha cercato di mantenere la calma e quando i due ladri gli hanno chiesto di aprire la cassaforte ha soddisfatto la loro richiesta. Secondo quanto riferito dal sacerdote i due parlavano con accento dell'est Europa e volevano oro e preziosi. Don Gualtieri ha fatto capire di non avere oggetti di valore in parrocchia e ha consegnato ai malviventi tutto il denaro contenuto nella cassetta di sicurezza, circa 1000 euro in contanti, frutto delle offerte raccolte durante le messe. Nel frattempo il vice parroco Don Vincent Souli, che vive nell'appartamento a fianco, si è accorto della presenza dei ladri e ha prontamente chiamato i carabinieri. In poco tempo una pattuglia dei militari è arrivata sul posto e i malviventi hanno capito di essere in trappola. Così sono usciti dalla finestra e sono fuggiti passando per i giardini e i campi confinanti con la parrocchia. Per i santi martiri si tratta dell'ennesimo furto. Negli ultimi quattro anni i ladri hanno visitato la chiesa e la canonica di Don Gualtieri almeno una volta all'anno. Purtroppo le parrocchie sono spesso al centro della cronaca per episodi simili. Tra i tanti ricordiamo l'aggressione a Don Massimo Malinconi, parroco di Mezzana. La notte di Natale del 2015 fu assalito da quattro banditi entrati in canonica. Sono iniziati questa mattina alle 7 i lavori di riasfaltatura di piazza San Marco e nonostante il periodo di feria non sono mancati disagi per il traffico cittadino. Lunghe code si sono verificate in piazza Mercatale e Viale Piave, le due direzioni di emissione delle auto in piazza San Marco. Secondo il cronoprogramma del Comune i lavori proseguiranno fino alle ore 18 di mercoledì 8 agosto e riguarderanno oltre alla piazza anche Viale Piave e Via Pomeria. In settimana partiranno gli altri interventi previsti. Giovedì asfaltatura in Via Roncioni e da lunedì prossimo lavori anche in Via Santa Margherita, Piazza Mercatale e Via Sant'Antonio. E torniamo a parlare della cessione del prato perché il procuratore Capo Nicolosi aveva aperto un fascicolo ben prima che il sindaco Biffoni annunciasse di voler trasmettere tutti i documenti alla procura della Repubblica. In particolare al centro delle indagini c'è lo stadio del Lungo Bisenzio. Venerdì il sindaco di Prato Matteo Biffoni aveva annunciato che avrebbe trasmesso alla procura tutti i documenti della cessione del Prato ma il procuratore Capo Giuseppe Nicolosi lo aveva preceduto. Già lunedì della scorsa settimana si era infatti deciso di aprire sulla vicenda un modello 45, ovvero un fascicolo che non riporta una chiara notizia di reato ma che richiede un approfondimento. Nicolosi sta acquisendo in questi giorni i documenti della trattativa in merito alla società. Per il momento non si prevede di convocare nell'ex patron dei Biancazzurri Paolo Toccafondi né il sindaco a cui era stato dato mandato dallo stesso Toccafondi di trovare un acquirente per la squadra. Il procuratore Capo vuole vederci chiaro su un punto in particolare ovvero il ruolo giocato dallo stadio. Già a maggio con la retrocessione del Prato tra i dilettanti Toccafondi aveva rimesso nelle mani del comune anche lo stadio. La disponibilità di questo stesso campo da gioco il comune l'ha subordinata al perfezionamento della cessione della società al canadese Joseph Romano. Al centro delle indagini dunque l'accertamento degli estremi giuridici per i quali l'amministrazione avrebbe tolto la disponibilità del lungo Bisenzio, elemento che ha poi pesato sul mancato ripescaggio del Prato in serie C. Paiono evidenti le zone d'ombra che hanno connotato tutta questa operazione di cessione tali da farci dubitare della sua genuinità, dichiarato Biffoni prima di annunciare l'invio delle carte. Sul tavolo del procuratore però ancora non è approdato nulla di provenienza del comune. La polizia della questura di Prato ha sgomberato un presidio indetto dai Cobas davanti al panificio toscano in via Onorio Vannucchi. Nella notte una cinquantina di persone ha impedito l'uscita dei mezzi dallo stabilimento con l'intento di bloccare il trasporto dei prodotti pronti per la consegna. I manifestanti stavano ponendo resistenza passiva per protestare contro i licenziamenti della cooperativa Giano che produce pane per conto del panificio toscano, marchio che opera nella grande distribuzione con stabilimenti a Prato e Colle Salvetti. Il sit-in di protesta ha richiesto l'intervento degli agenti di polizia che hanno sgomberato il picchetto. Sono state identificate quattro persone poi accompagnate in questura per essere deferite all'autorità giudiziaria. Lo ricordate venerdì scorso un uomo di 71 anni ha perso la vita poiché investito da una lam rossa in piazza stazione. Oggi la procura ha proceduto col sequestro del cellulare dell'autista. In particolare saranno controllati il registro delle chiamate e gli orari di accesso al sistema di messaggistica. La procura di Prato ha proceduto con il sequestro del cellulare dell'autista della Lam che lo scorso venerdì ha investito un pensionato causandone la morte. La vittima a un 71enne residente nel Pistoiese è stato travolto in piazza stazione mentre attraversava la strada lontano dalle strisce pedonali in un tratto curvilineo nei pressi della rotatoria del ponte della vittoria. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai soccorritori della Croce d'Oro. L'anziano che nella caduta aveva riportato un forte trauma cranico è deceduto. Trasportato al Santo Stefano in codice giallo anche l'autista della Lam rossa Galceti sotto shock in seguito all'incidente. L'autobus era stato immediatamente sequestrato e sulla salma è stata oggi effettuata l'autopsia. La procura di Prato ha aperto un fascicolo sul caso di cui si sta occupando il sostituto procuratore Egidio Celano. Sono state acquisite le immagini della telecamera posta sul cruscotto dell'autobus per la ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente che però è rimandata a settembre per la pausa estiva. Intanto come detto si è proceduto con il sequestro del cellulare dell'autista ad accertare che l'attenzione del conducente nei tragici momenti dello scontro non fosse distolta dal telefono. In particolare saranno controllati il registro delle chiamate e gli orari di accesso al sistema di messaggistica. Una scritta razzista è comparsa nella notte sul muro della biblioteca Lazzarini. A notarla sono stati alcuni ragazzi dei giovani democratici che l'hanno subito segnalata al comune, il quale ha poi provveduto a coprirla. Dura la condanna del sindaco Matteo Biffoni. La scritta è il frutto dell'esasperazione dei toni di una certa politica che tambureggiano ormai da quattro mesi. La frase inneggia al ministro Matteo Salvini e all'allontanamento dei marocchini così è stato scritto da Prato. Il comune ha già provveduto a coprire la scritta e a ripristinare la parte di muro danneggiata. In arrivo sconti e agevolazioni per il trasporto pubblico regionale. La regione ha annunciato una serie di aggiustamenti alle tariffe a partire dal mese di settembre. Sono in arrivo agevolazioni per studenti e lavoratori. A un mese dall'entrata in vigore delle tariffe unificate a livello regionale per il trasporto pubblico su gomma scattata il primo luglio, la regione ha annunciato una serie di aggiustamenti a partire dal 10 settembre. Tra le novità il carnet da quattro biglietti extraurbani con sconti dal 10 al 25%, l'integrazione degli abbonamenti urbano ed extraurbano, l'abbonamento studenti da 10 mesi, un ulteriore sconto del 5% per le aziende che acquistano almeno 20 abbonamenti annuali per i dipendenti e lo sconto sull'abbonamento annuale extraurbano. E poi c'è l'Isee. Chi ha un Isee sotto i 36 mila euro può avere un abbattimento abbastanza importante che sta tra il 18 e il 20%. Così come è possibile detrarre dalla successiva denuncia dei redditi, questa è una previsione dell'ultima legge di stabilità nazionale, il 19% dalle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti indipendentemente dall'Isee. Gli aggiustamenti predisposti dopo il mese di rodaggio delle nuove tariffe riguardano anche la revisione dei livelli tarifari Pegaso, l'attivazione di un piano anti-evasione con personale qualificato e la riduzione del maggior costo del biglietto acquistato a bordo nelle fasce sopra i 40 km. Noi siamo convinti in questo modo di essere andati incontro a quelle che sono state le maggiori strutture, le maggiori criticità che ci sono state evidenziate spesso attraverso il nostro numero verde, attraverso le mail, attraverso segnalazioni dei comitati e soprattutto attraverso anche le segnalazioni degli amministratori pubblici, dei sindaci che si sono fatti interpreti delle situazioni che si erano andate determinando. La comunità tariffaria regionale ha equiparato le tariffe urbane a quelle del resto d'Italia e quelle extraurbane a quelle chilometriche dei treni regionali e la sua entrata in vigore era prevista dalla gara unica per il TPL, poi bloccata dai ricorsi già nel 2015. Alcuni effetti della gara sono stati anticipati dal contratto ponte sottoscritto da Regione Scarlo Wan. Un gazebo per promuovere l'uso dello spray urticante per la difesa delle donne è quanto propone di organizzare nei prossimi giorni la Lega Nord a Prato, sulla scia di quanto fatto dalla sindaca leghista di Cascina Susanna Ceccardi. A seguito dell'ennesimo caso di violenza sulle donne avvenuto a Milano durante la quale la ragazza si è salvata solo grazie all'uso dello spray, spiegano una nota Patrizia Ovattoni, segretaria provinciale della Lega, abbiamo deciso di organizzare una giornata durante la quale forniremo informazioni sull'utilità di questo strumento e nell'occasione doneremo alcuni spray urticanti alle donne che verranno a far visita al nostro gazebo. Cambiamo decisamente argomento perché è la tredicesima edizione della festa del volontariato a Cafaggio, promossa dal Circolo Arci e dalla Parrocchia. Ogni sera fino al 19 agosto cene solidali per sostenere le associazioni del territorio. Ormai è una tradizione solidale molto sentita e partecipata. Fino al 19 agosto a Cafaggio si tiene la festa del volontariato, una unità di intenti che vede protagonisti il Circolo Arci di Via del Ferro e la parrocchia di Santa Maria Assunta. Ogni sera si potrà cenare con ottimi piatti della tradizione toscana e con gustose grigliate nel giardino all'aperto della Casa del Popolo. Quella del 2018 è la tredicesima edizione di una manifestazione nata con lo scopo di sostenere economicamente le associazioni di volontariato del territorio che quotidianamente si impegnano per gli altri. È la tredicesima edizione della festa di volontariato, è iniziata stasera, vedo già tanta gente, si spera che va di bene come gli altri anni, diamo tutto in beneficenza alle associazioni qui di Prato. Siamo tutti volontari e si viene tutti da ambienti diversi, ci ritroviamo ogni estate qui per lavorare insieme e questo ci porta gioia e poi si sa che poi tutto va a buon fine insomma. A partire dal 12 agosto durante la festa sarà presente uno stand del coordinamento Pratese di Libera dedicato a Calogero Tramuta dove si potranno acquistare prodotti biologici provenienti dalle terre confiscate alle mafie. Inoltre chi lo desidera può contribuire alla raccolta di prodotti alimentari destinati ai richiedenti asilo ospitati da Don Massimo Biancalani nella parrocchia di Vicofaro a Pistoia, mentre il ricavato della festa sarà consegnato alle associazioni di volontariato in un'apposita cerimonia che si terrà nel mese di settembre. Agosto, tempo di Calici di Stelle a Carmignano. La fortunata manifestazione enogastronomica è andata in scena questo weekend ed è pronta a replicare il 9 e il 10 agosto. Ottimi vini, musica di qualità e un panorama mozzafiato. Le prime due serate di Calici di Stelle e la fortunata manifestazione che si svolge nei freschi giardini di olivi della Rocca di Carmignano si sono svolte nel weekend e ci si prepara alle altre due di giovedì 9 e venerdì 10 agosto. L'anno scorso Calici di Stelle ha registrato 6.500 ingressi paganti in quattro giorni, segno del successo che la chermessa organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune continua a riscuotere che quest'anno si accinge a replicare. L'enogastronomia è rappresentata da 11 fattorie del Consorzio dei Vini di Carmignano e dai ristoratori e artigiani del gusto delle colline Medice. Saranno presenti ospiti anche alcune aziende di Franciacorta. La colonna sonora della festa sarà quella di The Twisters per il 9 agosto e The Last Minute Dirty Band con le loro note anni 50 e 60 per la serata conclusiva del 10 agosto. Per bere serve un calice in cristallo, costa 3 euro compresa la tracolla, ma chi ne avesse già uno lo può portare da casa. Laboratori e concerti sono invece tutti gratuiti. L'ingresso per calici di stelle costa 2 euro, gratissi bambini fino a 12 anni e le consumazioni sono a pagamento scambiando gli euro in grappoli. Si può arrivare in Rocca comodamente con il servizio gratuito di Busnavetta che parte da Piazza Vittorio Emanuele II oppure a piedi attraverso un percorso pedonale di 500 metri. Siamo allo sport classica d'agosto per il ciclismo pratese. A Sant'Ippolito di Vernia ha segnato i titoli provinciali esordienti primo e secondo anno il servizio di Massimo Biondi. Ancora un successo per la 48esima edizione della Coppa Martiri della Libertà, classica giovanile per le categorie esordienti primo e secondo anno, svoltasi a Sant'Ippolito di Vernio con la regia di Primo Targetti assistito da un grande professionista come Andrea Vezzosi e da tutto il consiglio della società di Sant'Ippolito. Cento ragazzi si sono dati battaglia in Val di Vigenzio su un tracciato abbastanza impegnativo, vista la giovane età perché si doveva raggiungere Sant'Ippolito nel finale di gara. Nella corsa del primo anno il successo è andato a Pietro Pieralli della Fosco Bessi di Calenzano che superava in volata Thomas Del Frate, Alberto Cavallaro e Nico Biagi della Borgo Nuovo Lanificio Emilio, l'Enzi Bike di Prato che conquistava il titolo di campione provinciale. Nella seconda corsa, per gli esordienti secondo anno, successo del bolognese Jeff Alan Swinta che anticipava di 37 secondi al traguardo Edoardo Bartalesi e Pier Giorgio Cozzani. La maglia di campione provinciale andava ad Alessandro Nannini del gruppo sportivo Borgo Nuovo Lanificio Emilio, l'Enzi Bike. Al termine della corsa, cerimonia toccante e sentita per i martiri della libertà che tanto fecero per salvare la democrazia nel nostro paese. Per la cronaca, da segnalare, molte sono state le società che sono giunte da fuori regione per onorare Primo Targetti, noto organizzatore della provincia di Prato, tutto il consiglio del gruppo sportivo Sant'Ippolito e tutti gli sportivi che hanno lavorato per la riuscita della manifestazione. È il momento della nostra agenda, diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti a Prato e dintorni. domani martedì 7 agosto alle 21.30 alla Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzarini Gnosi delle Fanfole, concerto nell'ambito della Prato Estate 2018. Alle 21.30 al Castello dell'Imperatore, proiezione del film La Settima Onda. Alle 17.30 al Museo Archeologico Francesco Nicosia di Artimino, Etrusche Buon Vino, visita al Museo e degustazione guidata di vini della tenuta di Artimino. E per concludere, fino al 19 agosto al Circolo Arci di Via del Ferro 26, festa del volontariato di Caffaggio. Colleghiamoci adesso con il Consorzio Lama per tutti gli aggiornamenti sul meteo. Guardate. Buonasera a tutti e ben trovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lama. L'immagine alle mie spalle ci mostra la circolazione a grande scala prevista per la giornata di domani. Ancora alta pressione sul Mediterraneo, in particolare sul Mediterraneo Centro Orientale. Un'area di bassa pressione sulle isole britanniche inizia a insidiare anche la nostra penisola. Ma andiamo a vedere il tempo previsto per la giornata di domani. Al mattino prevalenza di cielo poco nuvoloso, con venti deboli di direzione variabile, mari poco mosse e temperature minime che tenderanno ad aumentare leggermente. Nel pomeriggio sviluppo di nubi comuniformi nelle zone interne, con possibilità di qualche isolato, rovescio, temporalesco. I venti sono deboli occidentali, i mari poco mosse. Le temperature massime sono attese in lieve diminuzioni, massime fino a 33-35 gradi. Uno sguardo anche alla previsione per domani, previsione molto simile. Al mattino ancora prevalenti condizioni di bel tempo, con venti deboli meridionali e mari poco mosse e temperature stazionare. Nel pomeriggio ancora nubi comuniformi nell'interno e ancora la possibilità di rovesci temporaleschi in genere di breve durata. Le temperature massime sono attese in ulteriore lieve diminuzione, con punte di 32-34 gradi. temperature tutto sommato in linea con i valori di metri stagionali. È tutto, grazie per l'attenzione. Non ci sono aggiornamenti, vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo il prossimo appuntamento con le informazioni di TV Prato domani alle 13.45. A voi tutti una buona serata. Grazie. 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 Grazie.